Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News. Siamo qui al Cinema Odeon dove si sta svolgendo ancora e con grande successo di pubblico la 50 giorni di cinema internazionale a Firenze. Fino al 3 novembre si è tenuto il festival France Odeon, un festival che ha avuto ospiti molto importanti e che ha visto la presenza qui nella nostra città di un'attrice giovane e bella, Marine Wacht. Giovane e bella lo nomino non a caso, infatti lei è la protagonista del film di apertura di France Odeon, Jeanne et Jolie. Il festival è stato presentato giovedì 31 ottobre alla presenza dei rappresentanti di Regione Toscana con Cristina Scaletti, del sindaco di Firenze Matteo Renzi, dell'ambasciatore Alain Leroy e dei rappresentanti di Ferragamo Parfum. Infatti per l'occasione Ferragamo ha istituito un premio, l'essenza del talento, ed è stata proprio Marine Wacht qui sul palco dell'Odeon a ricevere per la prima volta questo premio inedito. Quindi un festival, come dicevo, che ha riscosso, come al solito, tanto successo di pubblico, di critica, tante le recensioni che ha ricevuto e film molto interessanti. Adesso il testimone della 50 giorni di cinema internazionale passa al Florence Queer Festival che si tiene qui all'Odeon dal 6 al 12 di novembre. Focus del festival, come al solito, un universo, quello delle persone LGBT, vale a dire gay, lesbica e transgender. Ancora una volta saranno le tematiche di questa diversità di genere ad essere protagonista qui all'Odeon con tanti film, 30 titoli, di cui ben 11 in anteprima, tanta musica anche nei film presentati dal Queer e anche un focus sul Vietnam con una bella mostra che si sta tenendo in contemporanea all'OIED. Infatti il Queer, come ogni anno, non propone soltanto cinema ma anche teatro, arte e letteratura. Sentiamo adesso quali sono i punti forti del programma del Queer dalle parole dei direttori del Festival. Quali sono i punti forti del programma del Festival Queer di quest'anno? È un dicesima edizione dal 6 al 12 novembre. Intanto il focus sul Vietnam e mi sembra importante ribadire e rimarcare questa cosa. Lost in Paradise apriamo con questo film meraviglioso in anteprima nazionale. È una storia molto forte, girata negli ambienti metropolitani di Saigon, passione, crudeltà, animalismo, omofobia. E poi legato appunto al film c'è la mostra di Mai Kailan, questa vietnamita che è venuta a Firenze e ha radiografato la scena LGBT in Vietnam. La musica è importante in questa edizione, tanti film che legano le culture queer con le culture musicali. Vorrei dire Lai Bowery, il mondo di Lai Bowery che è appunto questo protagonista, la scena queer anni Ottanta a Londra. Il film su Anthony the Johnson, Turning, che è un film meraviglioso sempre di Charles Atlas, che è lo stesso regista di Bowery, il film, il clip è Sirio Mezzanino e I'm Divine, il documentario meraviglioso di Vine, questa protagonista della scena transgender americana. Ecco, appena finito il festival francese, so che farete un omaggio anche a Cocteau. Sì, abbiamo in programmazione il film Opium, a 50 anni dalla morte di Jean Cocteau, un film che ripercorre gli anni della sua dipendenza dall'Oppio, fatto da una regista, un Ariel d'Ensemble, che ha raggruppato personaggi, artisti, noti e amici della scena francese. Estremamente interessante anche sempre sulla scia, diciamo, del filone letterario, l'Antigatto Pardo, un documentario che ripercorre la vita di Goliarda Sapienza, una scrittrice, un personaggio che ha avuto fortuna dal punto di vista letterario dopo la sua morte, un caso letterario che però vale la pena di conoscere e incontrare. L'invito per tutti i telespettatori è naturalmente quello di venire a seguire tutti gli appuntamenti del Forensic Queer Festival, che come dice uno dei direttori, Bruno Casini, è un festival militante ma anche di intrattenimento. Quindi qui al Queer ci si diverte ma si riflette anche su quelle che sono le problematiche delle persone LGBT, un festival che, come ha sottolineato Roberto Caponi, della Presidente dell'Irios, è cresciuto molto negli anni in modo esponenziale, se così vogliamo dire, anche se purtroppo non c'è una risposta analoga nella società e nel rispetto spesso dei diritti di queste persone. Fra l'altro il Queer dedica, come gli altri festival della 50 giorni, un omaggio alla donna, al ruolo della donna della società, con un bel film di Goliarda Sapienza, una scrittrice della seconda metà del Novecento siciliana, che presenterà un film sull'anti-gattopardo. Insomma, tanti gli appuntamenti veramente interessanti. Tutto il programma sul sito www.50giornidicinema.com E arrivederci alla prossima puntata. Grazie per la visione!